Abbiamo avuto un'ulteriore conferma che la rete dell'Ictus, sempre dell'Asda di Salerno, è a livelli eccellenti di efficienza. Abbiamo avuto un paziente che a Sapari è stato colpito da Ictus, monitorato, messo in sicurezza a Sapari, poi trasportato a Nocera Inferiore per un intervento di trombectomia. Tutto in poche ore si è salvato la vita. Sono eccellenze della nostra sanità, di cui non parlerà nessuno a livello nazionale, televisioni, giornali.